Amici talismundiani, bentornati. Oggi in questo video vi farò vedere e vi darò una piccola prova che le associazioni segrete che gestiscono la politica esistono, esistono. E c'è una prova con un video dove Giovanotti gli scappa una parola, svela, che ha fatto parte di una riunione segreta. Allora ragazzi, vi invito a visitare il blog luigiladelfa.it, in descrizione il link. Vi invito a condividere questo video, a scrivere un commento e a lasciarmi nei commenti altri scoop, video, news, altri canali sia dell'ambito dello sport pure della tecnologia, della scienza, di tutto ciò che volete voi, anche della moda, anche della moda. Anche se non è un argomento che ho tratto, però se c'è qualche ragazza, qualche ragazzo che mi vuole mandare o segnalare dei canali, dei canali da dissare, fattelo pure, nei commenti. Pollice in su e condividete a raffica, a raffica dappertutto perché stiamo ritornando di nuovo alla grande ragazza, come vecchi tempi. Allora vi mostro questo video dove Giovanotti sei anni fa ha fatto una conferenza all'Università di Firenze con i ragazzi doveva parlare di lavoro, famiglia, musica, politica, che alla fine ha svelato che lui ha fatto parte di una riunione segreta del gruppo Bilderberg. Guardate un po', andiamo a esaminare questo video insieme. Guardatelo, cioè, cosa fa Giovanotta. Non parte. Problemi in studio, ragazzi. Oggi c'è il tema di istituzioni private, finanziarie, c'è tanta gente ricca. Guarda, io mi è successa una cosa l'altro anno, mi è successa una cosa per rispondere a questa domanda. Sono stato invitato ad un summit privato, molto, molto esclusivo, organizzato dal... Avete visto? Avete visto cosa ha detto? Un summit segreto, privato, abbalbettato, abbalbettato. Quando una persona abbalbetta significa che sono argomenti scottanti. E, nonostante ciò, naturalmente, ciò che sta affrontando Giovanotti è un tema particolare, però ci significa, significa, ragazzi, che lui doveva dirle queste cose. Gli hanno detto, chi è di competenza, di dire che lui aveva fatto parte di questo summit, di questa organizzazione, perché, naturalmente, loro vogliono che qualcuno inizia a parlare, inizia a svelare che la politica, eccetera, eccetera, perché sennò anche io stesso oggi non fosse qui a fare il video. Loro vogliono e hanno usato Giovanotti. Giovanotti, naturalmente, ha detto segreto, poi ha cambiato, ha detto privato. Quando abbalbettato significa che, naturalmente, lui stesso ha paura di ciò che sta per dire, deve fare attenzione, di non svelare troppe cose, di dire le cose un po' così, così. Cioè, avete capito, ragazzi? Ed è vero che ha fatto parte a questo summit, ora lo andremo ad analizzare, perché è questo qui. Ragazzi, vi racconto cosa è successo con Giovanotti nel 2007. A me mi sta sui coglioni da tantissimo tempo. Nel 2007, quando è nato Telesmuto, cosa è successo? Io vado a scrivere un commento stile a sfottò sotto un suo video. Lui era nuovo pure di YouTube. L'avevamo creato quasi nello stesso periodo il canale, sia io che lui, perché io, ragazzi, sono stato uno dei primi a creare il canale. E poi era l'epoca, nel 2007, che stavano iniziando pure gli artisti. E io gli ho criticato una canzone e mi ha bloccato, mi ha bloccato. Cioè, non so se è stato lui o è stato l'amministratore dell'account. Mi ha bloccato, ragazzi, mi ha bloccato. E vabbè, si vede che io sono un super king del bene e già si vede da queste cose che lui invece era una scorreggia del male. Continuiamo con Giovanotta. ...da una delle più grandi aziende del mondo. In questo summit, un'azienda di internet, c'erano quelli che secondo loro erano gli 80 persone più importanti del pianeta per quanto riguarda il futuro. Va bene? Adesso io non posso parlare liberamente di questa cosa qui, perché era un, si dice, off the record, ovvero era un incontro a porte chiuse, senza nemmeno la connessione internet che voi direte, non ha per un'azienda internet. Però di fatto è stato molto interessante. Vi domanderete anche tu che c'entravi fra quelle 80 persone. È una domanda intelligente. Io me la sono fatta per primo. Ragazzi, vi spiego, vi spiego, perché hanno scelto proprio lui. E infatti c'è soltanto questo video nella rete, ed è solo lui, perché hanno scelto proprio solo lui, anzi, ve lo dico, ma mano va avanti perché poi dirà altre cose. e aggancerò sull'altra cosa che dice, il perché, l'hanno preso solo lui. Però questo è solo lui. Questa domanda, però il punto è che siccome questa cosa avveniva in Italia, loro avevano piacere di avere un personaggio della, chiamiamola, cultura popolare pop italiana avanzata, secondo loro, ovvero non che rappresentasse la tradizione, ma che rappresentasse un percorso verso qualcosa di futuro. Questa è una promessa, è una premessa. La cosa interessante di questo incontro, che ha durato quattro giorni, è che c'erano premi Nobel, c'erano CEO, come si dice, come si traduce in Italia, amministratori delegati di grandissimi multinazionali, di farmaceutiche, tecnologiche, ingegneri, c'erano addirittura attivisti, attivisti sui percini umani, femministe, il più grande skater del mondo, Tony Hawk, alcuni di voi lo conoscono, c'erano surfisti, non c'era un politico, neanche uno, neanche uno. C'era il capo della Banca Mondiale, c'era il… questa cosa qui non vuol dire che politici, perché non c'erano? Io l'ho domandata questa cosa, perché non servono, hanno detto loro, nel senso che in questo ambito, in questo ambito, la politica non è importante. Noi, qui si decidono le cose. Giovanotti, se non hai capito, non serve neppure tu, non serve neppure tu e non serve neppure quell'organizzazione che fa parte di questo summit, perché poi alla fine ragazzi non governano, non decidono neppure loro. loro fanno le riunioni, pensano che poi alla fine dietro dietro c'è sempre l'organizzazione che dà le direttive. Anche perché, ragazzi, vi siete chiesti come mai dalla nazione italiana hanno scelto solo Giovanotti, cioè Giovanotti, potrebbero scegliere Gianni Agnelli, potrebbero scegliere Berlusconi, potrebbero scegliere, posso dire, qualsiasi altro imprenditore potente o un altro artista, Cialentano, per esempio. Cioè, ragazzi, perché hanno scelto Giovanotti? Prima cosa, perché guardandolo in faccia, si vede, si vede che tipo di esemplare è un bagnato nel miele, si vede, si vede, si vede. E poi, naturalmente, proprio perché lui non rappresenta nulla, non rappresenta nulla. In Italia, ragazzi, sono colori quali comandano a livello mondiale tutto il Deep State. Sono, le menti sono dall'Italia che provengono, ragazzi, attenzione. Poi ci sono, vabbè, dall'Inghilterra, gli altri, uno, le principali, ragazzi, sono dall'Italia. Anche perché, ragazzi, la storia parla chiaro, l'antico impero romano, eccetera, eccetera. Continua ancora a susseguirsi. E allora cosa succede? Dicono, che ci mandiamo e mandiamoci a lui così, che poi lui stesso gli hanno detto di fare sto video perché poi, a poco a poco, avvisare e far capire che la politica... Perché, ragazzi, allora siamo arrivati al dunque, siamo arrivati ora al dunque. Adesso, fra qualche anno, lo diranno chiaro, lo diranno chiaro, la politica non serve un cazzo, già questa, la pandemia, vi sta facendo capire che ciò che diceva Giovanotti, alla fine aveva ragione, aveva ragione. Le cose si decidono non più a livello politico, ma la visione non è più politica. Questo è drammatico, non sto dicendo, poi non è che farò un balletto su questo tavolo per festeggiare questa cosa. Dirò che però la situazione è questa, nel senso che la politica amministra questa situazione, ma le scelte non le fa la politica. Adesso vi dico una cosa. Giovanotti ha fatto parte a una delle tantissime riunioni segrete che fa questo gruppo Bilderberg, o che fa questi gruppi Bilderberg, sono dei gruppi che fanno delle riunioni, scelgono delle persone e magari in questi quattro giorni che ha fatto Giovanotti, proprio hanno spiegato che il mondo viene gestito da loro, per esempio, e la politica non serve a nulla, eccetera, eccetera. E gli hanno indottrinato nella mente a Giovanotti e a tutti gli altri questa, diciamo, situazione. però poi quando fanno le altre riunioni dove prendono decisioni più serie, per esempio la decisione sul riscaldamento climatico, la decisione per chi deve vincere, per esempio, le elezioni negli Stati Uniti d'America, queste decisioni qui non le faranno proprio loro cantanti e artisti. Allora gli fanno fare tipo riunioni così, vengono gestiti, vengono gestiti. Per degli scopi, per esempio in questo caso quella riunione là sta servendo, perché poi Giovanotti era l'unico in Italia che andava per le altre nazioni, magari hanno scelto altre persone, eccetera, eccetera. Non le fa più la politica, una volta le faceva solo la politica, poi a un certo punto le ha fatte insieme e poi non le ha fatte più. Perché? Perché la politica cerca consenso. E cercando consenso sbagli sempre. Se tu cerchi consenso sbagli sempre. Se tu vuoi ottenere la benevolenza di qualcuno, devi dargli una gratificazione immediata. E la gratificazione immediata è quasi sempre un errore, perché la politica è visione, no? Per me. Perché in una canzone dico il tecnocrate di turno è quello che ci fotte, no? Perché il tecnocrate non ha visione. Il tecnocrate sistema le cose in quel momento, lì ha una visione breve, le cose, no? Fa i conti, fa i conti in quel momento. La politica invece è quella che ha la visione. E la visione qual è? Avere un obiettivo, l'obiettivo è quello di raggiungere questo risultato. E come si fa? Si fa così. Questo è il primo passo, qui scontentiamo questo qui, qui qualcuno si arrabbierà, però poi dopo ritornerà, perché comunque si renderà conto che abbiamo fatto bene. E quest'oggi la politica non è più in grado di farlo, perché se la politica si fa in televisione, è chiaro che è difficile, no? Quindi chi la fa? La fanno altri. Grazie al cielo? Non è disperato il mio discorso. Ma chi sono questi qui? Sicuramente non è lui e non sono coloro i quali hanno fatto parte a quella riunione lì, perché poi ad ogni riunione cambiano i personaggi. E ora io mi chiedo una cosa e voi vi dovete chiedere pure questa cosa. Ma chi è che decide chi è il capo, il capo che decide coloro che devono fare parte di questa riunione? Allora ci sarà, dietro questi pagliacci qui, che fanno queste riunioni, Bilderberg, un capo supremo? Ci sarà un capo supremo? Non potete dire di no, ci sarà un capo supremo, perché chi sono questi? E che non si sa chi è, non si sa chi è, questo capo supremo potrei essere. Per esempio io, oggi ci dico, ai miei braccio destro, in realtà, ci dico, invitiamo dall'Italia, giovanotti, vabbè, hanno tutta un'organizzazione questi qui. Li invitano a una riunione. Poi, un'altra riunione, posso indire io, un'altra riunione segreta per discutere di altre cose. Ma tutte queste riunioni, tutte queste cose, fanno parte di un progetto centrale, unico, unico, che naturalmente, voi e noi non sappiamo. Ma ciò che dice giovanotti, naturalmente, è l'esempio, è far capire alla gente, è farla entrare nell'ottica, dato che è andata all'università, ai giovani, farla entrare nell'ottica che la politica non serve un cazzo. Ora io mi chiedo una cosa, andrei da giovanotti e gli direi, e allora che sono questi qui? Che sono questi qui? fai i nomi e cognomi di queste persone qui e di che cosa hanno detto, di che cosa hanno detto. Ce l'hanno altri, le visioni ce l'hanno altri, c'è gente che ha delle visioni, ce ne sono un sacco, ci sono un sacco di persone che hanno le visioni, ci sono gli economisti, ci sono gli amministratori delegati, ci sono anche semplicemente gli agricoltori, e poi ci sono gli artisti, e poi ci sono quelli che nel piccolo costruiscono una cosa, e quella cosa influenza poi altre persone intorno a sé. Si sta imbastidendo, il moderatore l'ha seduto un po' si sta imbastidendo, diceva che cazzo sta dicendo? Ci sono per esempio io, giovanotti, ci sono io che sono un king, sono un king che ho le supervisioni. Pensate cosa sta diventando, non so, siamo in Toscana, l'agricoltura, il biologico nel mondo, quanta gente sta svoltando, quante aziende stanno nascendo, che poi svoltano la propria esistenza, io mica dico solamente che bisogna fare delle grandi industrie, anzi... Sta nominando la gente, ma quelli là che veramente hanno la percentuale alta di comando a livello mondiale non li sta nominando, e non li voglio nominare neppure io. C'è una determinata cumbricola comitiva di persone potenti, potenti, potenti che comanda il mondo, però lui non la nomina, perché certamente non la puoi nominare, quelli comandano il mondo ragazzi, quelli insieme, anche ad altri, però quelli sono nettamente superiori, questi qui che fanno i pagliacci, parlano, c'è Giovanotti che deve comandare, lui stesso si chiede ma come mai mi hanno scelto a me, lui ancora non se lo... Cioè te lo dico io, Giovanotti, hanno scelto te per poi fare sto video qui, e sicuramente poi te hanno detto sì sì, lo puoi dire all'università, tu naturalmente ti senti tutto tutto entusiasta, ma l'invitatore, il gruppo... Iperframmentato, è come nella musica, no? Una volta nella musica c'erano i grandi flussi, no? C'era il rock, c'era questo, c'era questa, adesso la musica è invitata, se voi andate a un festival rock, una volta c'erano tutti i cantanti di uno stesso tipo, un giorno, il giorno dopo tutti quelli di uno tipo, andate oggi, c'è tutti, tutti lo stesso giorno, un DJ, uno con l'acustico, uno con la fisarmonica, un altro che balla la samba, uno che viene da... che è africano, un africano che fa il rock, un DJ che fa la classica, questa cosa qui è la contemporaneità, e noi dobbiamo fare i conti con questa cosa qui, che ha degli aspetti meravigliosi, però, non scherziamo, cioè, io in quei quattro giorni lì, ascoltando questa gente parlare, mi sono uscito entusiasta comunque, entusiasta dal fatto che comunque le cose si possono fare, le cose si possono fare, ma fare cosa? che veniva dal niente, per esempio, moltissimi africani, l'Africa è un paese, è un continente che si sta cambiando tantissimo, si sta evolvendo anche economicamente, ci sono alcuni dei più grandi architetti del mondo che vengono dall'Africa, uno, 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 sembra quasi una... ma a dirle la verità, che in Africa stanno morendo di fame, ci sono un sacco di persone che muoiono di fame e tu sei seduto lì nella cattedra di questa università, pagliaccio, dillo che il Vaticano non aiuta nessuno, dillo che questi gruppi in Bilderberg, dove sei stato tu, fanno morire un sacco di persone in Africa invece di aiutarlo, dillo, pagliaccio. E niente, quello che era interessante lì chiedersi è e l'Italia? Che facciamo noi dentro questa roba qua? Chi siamo noi? mi domandavo, non c'erano molti italiani lì dentro, non c'era Giovanotti? C'ero io, c'ero io, però c'ero io forse anche un po' da imbucato mi comportavo, nel senso che, sì, evidentemente se c'ero, un motivo c'era, però... Questo è il motivo, questo è il motivo, perché tu che ti credi di essere? Secondo te tu potresti essere uno che copia canzoni, copia canzoni, perché Giovanotti è stato denunciato per plagio di una canzone spagnola, di un artista spagnolo e poi lui l'ha riscritta con le parole italiane, ma la base, la base è del cantante spagnolo, è stato denunciato perché tu non hai neppure la capacità di andare a inventare che sei un ladro, sei un ladro, Giovanotti, sei un ladro, e tu sei uno che potrebbe prendere decisioni su che cosa, su che cosa? Ecco, la domanda rimane aperta, l'Italia, 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 lì dentro ha uno spazio, secondo me, ce l'ha, ce ne rendiamo conto, e lo spazio penso che sia questo è dicendo, lui stesso non sa cosa dire, perché lui stesso non ci arriva con la mente, oppure forse ci arriva, ci arriva, però lui stesso dice, ma io che ci sono andato a fare? Io che ci sono andato a fare? Giustamente non sa cosa dire, proprio perché se lui avrebbe avuto, se io per esempio andavo a questo summit e io da King facevo delle proposte, cioè, che comandavo io, facendo delle proposte del King e io andavo lì, cioè, prima cosa, vabbè, io non le andavo a raccontare, non ero come lui, il pagliaccio, però, che andavo a svelare queste poste, io neanche mi ci mettevo, se a me mi dicevano, fai parte di sto gruppo e poi tu lo devi svelare all'università o alla gente, ma che, ma andate a fanguno, ma perché mi state prendendo per un coglione, cioè, mi state prendendo, lui stesso non sa che cosa ci è andato a fare lì, cioè, lui stesso dice, ma che ci sono andato a fare? si sente a disagio a dire, ma forse ci sono stato per fare sto video qui, cioè, non c'è. E' come sempre, non riuscire a farsi forte delle proprie, cioè, cercare di capire chi si è e proiettare questo chi si è dentro una società contemporanea, non dentro una società come vorremmo che fosse, ma dentro la società come è, proiettare quello che io vorrei essere. Ti ringrazio molto che hai detto, che hai detto ragazzi, ma che cosa hai detto? Scrivetevi un commento, ma che cazzo hai detto? Cosa di impazzire questo qui? cioè, io dico una cosa, ma, giovanotti, ma ritirati, hai fatto una figuraccia, hai fatto una figuraccia, perché questo video qui farà un bordello di visite, perché i miei King Telesmundiani lo condivideranno dappertutto, ragazzi, vi invito a condividere il video a Raffica sotto i video di giovanotti, dappertutto, su Facebook, in variati gruppi, Whatsapp, Telegram, dappertutto, dovete invadere la Raffica, scrivetemi nei commenti se avete altri scoop, perché questo video me l'ha mandato un King Telesmundiani. Vi saluto ragazzi, arrivederci alla prossima. Grazie.